Come si chiama questo nuovo punto di riferimento per chi comunque ha dei figli e deve diagnosticare una particolare patologia e soprattutto che cos'è? È stato nominato il mandorlo, dopo mesi di progettazione, è un centro clinico a tutti gli effetti che racchiuderà varie professionalità sanitarie, dalla neuropsichiatria, logopedista, psicomotricista, psicoterapia eccetera, avrà l'autorizzazione al rilascio alle certificazioni valide per legge ai fini dei disturbi specifici dell'apprendimento, ma non solo, tant'è che è inserito in una progettazione che vede inclusi anche partner tipo Oxfam e come Salute Nascita, quindi il nostro auspicio è quello di diventare un punto di riferimento dal meno nove mesi ai più 90 anni, chissà insomma. L'approccio cambia rispetto a un metodo più tradizionale per intercettare questo tipo di situazioni? Più che cambia si integra, si amplia, si amplia rispetto a collaborazioni, a possibilità, a intersezioni. L'idea che sta alla base del mandorlo, oltre l'approccio clinico, classico, standard di varie prestazioni, è proprio quello della presa in carico, una presa in carico integrata, totale, dell'individuo, a prescindere dalla problematica, dalla provenienza e dallo sviluppo, in un trattamento che sia il più individualizzato possibile. Abbiamo un'equip di, appunto, educatori professionali, sistemi per l'apprendimento, pedagogisti, tutor. L'idea è proprio quella di cuscire degli abiti su misura per ogni singolo individuo. Questa stanza multisensoriale, che poi è oggi, diciamo, un po' in sperimentazione in queste tre giorni, che funzioni avrà in questo percorso? La stanza multisensoriale avrà la funzione di implementare la figura e l'apporto, comunque, dello psicomotricista, in più diventare un punto di riferimento per le varie progettualità che ci sono, sia in Progetto 5, ma anche nella rete più ampia, quindi un punto di stimolazione, un punto di incontro, un punto di esperienza, un punto di formazione, magari per gli operatori, quindi un luogo dove, in qualche modo, fare delle esperienze cliniche, di ricerca e di crescita che siano significative.